Forse un po' più distante Infatti mi sembra strano che tu non usi nessuna vista i video che hai lì, no? Adesso abbiamo cominciato con il po' No no ma lì perché mi hai volato via Così va bene muovo Cosa ti insegno Tomi quando peschi anche se prendi un pesce Mantieni sempre la tua calma che non c'è bisogno di essere come certi che vedo Uno mi ha tirato su il serracoli con la canna e la tartarezza senti Mi ha tirato con tutte le ancorette addosso Poi quello che ti dico allora andiamo d'accordo Io me ne ho involuta questa camera No perché io ne ho già visti parecchi andare al punto soccorso Se le ancorette piantate addosso Vai vai più rapido Degli colpi più Questo qua non è facile questo artificiale qui da usare Molto violetto Ci hanno detto che ne hanno lavato due Se non lo sentono questo Ce l'ho Mamma Senza fretta che quelli lì fanno il disastro Sì sì Soprattutto quando viene qua canna Ok Come tira Altro che le trote Vai Tommy A me Ah Ah Non viene più Sì Vai Eccolo Sì Che professione Io non le trovo un paio Le faccio non le faccio Non le faccio Non le faccio Non le faccio Vai vai È un bistecco Amimo sai cosa facciamo Tiriamo giù tutto Mettiamo tutto in là Sì Posto Eh Si Bene Mamma mia Qua sotto alla barca non riuscivo a tirarla fuori Sì 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 Troppo Ma Dessertà Quattro Qui Sono clear Qui Ha 뭐 non adesso come mi ha dato un vista riguarda Giddo l'ha preso e l'ha mollato qua sono io quello di stare insieme l'ha preso e l'ha preso fai fuori adesso ragazzi dovrebbe esserci il momento che fino a quando viene buio dovrebbe esserci il momento che mangiano per ora abbiamo avuto io ne ho slamato uno, abbiamo avuto qualche attacco e poi io ne ho preso uno una barca ne ha appena preso uno adesso iniziamo a attivarsi di tramonto 3 di uno, pam, attacco no dai uno non lo so non lo so non lo so finicotteri mi ha appena inseguito un serra ragazzi allora la ne ho preso adesso uno e qua ho visto un cefalo che è saltato perciò gli stava il serra dietro io ho messo il needle prima l'arancia con il needle in vita mia siamo appena entrati capito? mi aspongo Luca e basta ciao